Il primo a scadere sarà quello per le nuove start-up nei vari settori, il 28 luglio. Parliamo dei bandi per i contributi alle nuove imprese del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Veneto. Sono rivolti a realtà iscritte alla Camera di Commercio da non più di 12 mesi, o associazioni professionali con partita IVA, o nuove imprese da avviare entro 45 giorni dall'assegnazione del contributo. Questi bandi garantiscono una quota di contributo del 50% o del 70% in investimenti iniziali, a seconda del bando. Questo chiaramente permette di ridurre molto la necessità di altre fonti di finanziamento alle imprese, quindi questa è sicuramente un'agevolazione importante. Quali sono le categorie che ne possono beneficiare? I quattro bandi che sono aperti adesso riguardano il primo, una vasta serie di imprese, purché abbiano caratteristiche di innovazione. Il secondo riguarda le imprese turistiche, qui c'è una novità interessante, che sono ammessi anche i servizi complementari al turismo, quindi non solo il tradizionale accoglienza o ristorazione. il settore culturale, inteso come editoria, audiovisivi, spettacolo, e il settore naturalistico, quindi imprese che si occupano di valorizzare la natura e fare servizi connessi a questo. Innovazione, sostenibilità, capacità di creare posti di lavoro, queste le caratteristiche per avere buona probabilità per accedere ai fondi, assieme a una serie di altri requisiti molto precisi. Come MAG noi possiamo intanto valutare l'ammissibilità dei progetti di impresa, perché ci sono molti parametri e criteri e vincoli da valutare caso per caso, e poi possiamo aiutare i proponenti o le proponenti a sviluppare il progetto di imprese e a presentare la domanda, dando quindi un accompagnamento, un supporto a 360 gradi. Perché diciamo che sono davvero una bella opportunità questi bandi, però poi ci sono dei criteri come le spese che sono ammissibili e che uno deve sapere. Esatto, perché purtroppo ci sono dei vincoli minimi e massimi di contributo che però si riflettono su vincoli minimi e massimi di investimento. L'investimento minimo richiesto dal bando, diciamo, più piccolo che è il Cultura, è comunque 20.000 euro. Inoltre non tutte le spese sono ammissibili, ma solo alcune tipologie, per cui va valutato attentamente cosa è possibile proporre alla Regione. Grazie. Grazie.